Siamo a Fano, all'Associazione Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è la dottoressa Stella Primari, pedagogista clinico, psicomotricista funzionale, formatrice in disegno onirico e psicodramma olistico. Il suo intervento al convegno Benessere in Armonia verterà sulla comunicazione. Ce ne puoi parlare? Sì, io in particolare parlerò di comunicazione, ma proprio la differenza che c'è tra la comunicazione che noi parliamo normalmente tutti i giorni, la differenza che c'è con l'intelligenza, la memoria e ci deve essere proprio un ponte, un collegamento tra il tipo di linguaggio che tutti i giorni le persone utilizzano e la comunicazione fatta proprio con il cuore. Perché il modo per trasmettere quello che noi realmente sentiamo e deve uscire proprio dall'empatia, dal nostro cuore, dal nostro sentito e quindi io al mattino spiegherò queste varie differenze. Inoltre spiegherò molto velocemente che cos'è la pedagogia clinica, il disegno onirico e lo psicodramma olistico. Disegnare e drammatizzare con il cuore sarà il suo laboratorio pomeridiano. Che attività sono previste? Le attività in particolare verteranno su quello che è stato detto al mattino e in particolare lavorerò con il disegno onirico e lo psicodramma olistico, facendo capire proprio come funziona la comunicazione a livello empatico, a livello proprio del proprio sentire, del proprio cuore e utilizzerò anche delle tecniche della pedagogia clinica. Uno spazio quindi riservato a se stessi, da non perdere insomma? Assolutamente no, non è assolutamente da perdere. Sarà molto divertente. Grazie per l'intervento. Grazie a voi.